Sapete che cosa sono i rituali? Alzandovi voi compiete un rituale e mi dimostrate così che non siete degli animali. Nella mia classe, durante le mie lezioni, sarete degli esseri umani. Ok! Voglio dedicare il prossimo pezzo al nostro nuovo professore, Robert Zupan. Tutta la quarta A gli augura che il lavoro lo esalti come esalta lui la quarta A con le sue splendide lezioni. Lernen, heißt nicht wissen. Wollen, heißt nicht können. Sabina, du hast etwas. Fang an es einzusetzen. È colpa di questo sistema scolastico di merda e di quello che questi idioti pretendono da noi. Ecco, brava. È una vita che lo dico. Allora ci saremmo già ammazzati tutti. Se non riusciva a sopportarlo non poteva vivere in questa società. Allora secondo te di chi è la colpa? Già, merda. Qui tutti ci vogliono tolleranti e gentili verso pederasti, stranieri, animali. Ma in realtà sono tutti marci. Quindi non c'è da meravigliarsi se siamo come siamo. Ma di cosa stai parlando? Siamo tutti responsabili per la morte di Sabina, anche noi. Martila, ti ho detto! Di Sabina non abbiamo parlato molto. Perché... perché lei ha preso la sua decisione. Metà di voi invece non sa cosa vuole studiare. Non sa cosa mangiare a merenda. Quale musica preferisce se fare o no una verifica in classe. Quindi come potreste essere in grado di scegliere addirittura tra la vita e la morte? Come potreste capire cos'è veramente importante nella vita? Dopo Gwyneth Paltrow e Ciwital e Giofor, anche Giulia Roberts si unisce al cast del remake del film diretto da Bill Ray, The Secret in Their Eyes. Nel film originale, una pellicola argentina che ha vinto il premio Oscar come miglior film straniero nel 2009, i protagonisti erano due uomini e una donna. Ma quando la Roberts ha espresso il suo interesse a prendere parte al progetto, Ray ha fatto così, ha fatto in modo di riscrivere uno dei personaggi così da poter accogliere nel cast l'attrice premio Oscar. Mmm, hai capito Giulia? Beata Ray. Al prossimo video. Ciao da Valeria.